In questa manovra manteniamo gli impegni anche in tema di reddito di cittadinanza, dunque noi abbiamo sempre detto che il reddito di cittadinanza è una misura sbagliata perché uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. E' esattamente da questa filosofia che muoviamo. Avremmo ovviamente avuto bisogno di più tempo per fare una riforma complessiva che faremo di questa materia, in un mese non eravamo nella condizione di farlo, ma intanto fedeli ai nostri principi noi stabiliamo che si continua a tutelare chi non può lavorare, disabili, anziani, famiglie prive di reddito con minori a carico, aggiungiamo le donne in gravidanza, ma per gli altri, per chi è in condizione di lavorare, il reddito di cittadinanza viene abolito alla fine di quest'anno, alla fine del 2023, chiedo scusa, il prossimo anno. Perché abbiamo fatto questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta perché ovviamente non avendo ancora messo in campo tutti gli strumenti con i quali vogliamo trasformare l'assistenza in lavoro, ci siamo dati un periodo transitorio per accompagnare le nostre scelte. Io credo e continuo a credere e nessuno mi toglie dalla testa questo obiettivo e ovviamente si stracceranno le vesti, vedo forze politiche che già chiamano la piazza, bene tutto. Vorrei sapere se chi ha pensato il reddito di cittadinanza quando lo ha pensato lo ha immaginato come uno strumento con il quale lo Stato dovesse occuparsi delle persone dai 18 ai 60 anni. Perché segnalo sommessamente che c'è gente che lo prende da tre anni senza soluzione di continuità che non sia un mese. Quindi evidentemente non ha funzionato come doveva funzionare o abbiamo stabilito il principio che per alcuni italiani lo Stato se ne occupa all'infinito. Io credo che lo Stato se ne debba occupare trovando queste persone, aiutando queste persone ad avere un posto di lavoro e a poter anche migliorare la propria condizione invece di mantenersi in quella condizione di difficoltà. Tra l'altro, scusate ho dimenticato un elemento che secondo me è fondamentale, tra gli elementi che introduciamo c'è anche l'obbligo di presenza del territorio nazionale per chi percepisce il reddito. Perché vi segnalo che sono tantissimi i casi di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza in Italia ma non stanno in Italia. Quindi credo che anche questo debba essere verificato.